conclusione errata parte prima era quasi una riunione di compagni di corso e sebbene non avesse niente di gioioso ancora non c'era motivo di pensare che sarebbe finita in tragedia edward tagliaferro che era appena arrivato dalla luna e ancora non si era affatto le gambe per sopportare la gravità terrestre andò a raggiungere gli altri due nella stanza di stanley caunas caunas si alzò per accoglierlo ma senza vivacità buttersley riger non si alzò affatto limitandosi a un cenno di saluto tagliaferro calò la persona robusta sul divano muovendosi con precauzione ben consapevole del proprio insolito peso abbozzò una smorfia storcendo le labbra entro la corona di baffi e barba che circondava la bocca nascondendo il mento e le guance si erano già visti nel corso del giorno in circostanze più formali ora erano soli per la prima volta e tagliaferro osservò è un po' un'occasione questa ci si ritrova per la prima volta dopo dieci anni anzi per la prima volta da quando ci siamo laureati riger arricciò il naso che dieci anni prima gli avevano rotto tanto che si era presentato a ricevere il diploma di laurea in astronomia con una fasciatura che gli sfigurava tutta la faccia in tono risoluto ordinò nessuno ha ordinato lo champagne o qualcosa del genere andiamo protestò tagliaferro il primo grande raduno astronomico interplanetario non è occasione per i musi lunghi e tra amici poi è la terra saltò su caunas c'è qualcosa che non va non riesco più ad abituarmici scosse la testa ma l'espressione depressa non si lasciava scrollar via permaneva ostinata lo so disse tagliaferro mi sento un pachiderma questo peso mi toglie tutte le energie se vogliamo tu stai meglio di me caunas la gravità di mercurio è di 0,4 rispetto al normale sulla luna invece è 0,16 interruppe riger che stava per interloquire aggiungendo e succerere usano campi di pseudogravità regolati sullo 0,8 tu proprio non hai problemi riger l'astronomo ceriano sembrava seccato sì quello dell'aria aperta uscire all'aperto senza la tuta mi fa impressione ha ragione approvò caunas e lasciare che il sole ti batta addosso non me ne parlare quasi senza accorgersene tagliaferro si sentiva riandare indietro nel tempo non erano cambiati molto neppure lui del resto era cambiato erano tutti più vecchi di dieci anni naturalmente riger era un po ingrassato e la faccia scarna di caunas si era fatta un po coriacea ma li avrebbe riconosciuti entrambi anche se li avesse rivisti per caso inaspettatamente parliamoci chiaro disse io non credo che sia la terra a darci sui nervi caunas rialzò bruscamente la testa era un individuo mingerlino muoveva le mani con gesti rapidi e nervosi abitualmente vestiva panni che avevan l'aria di cascargli un po dalla persona villier disse lo so e ci penso ogni tanto poi con aria di disperazione ho ricevuto una sua lettera riger si tirò su di scatto la sua carnagione olivastra parve farsi ancora più scura con energia domandò davvero quando un mese fa riger guardò tagliaferro e tu l'altro batte placidamente le palpebre e assentì è diventato matto disse riger asserisce di aver scoperto un metodo pratico per trasferire la massa attraverso lo spazio l'ha detto anche a voi altri ecco vedete un po toccolo era sempre stato ora è ammattito del tutto si massaggiò energicamente il naso e tagliaferro ripensò al giorno in cui villier gliel'aveva rotto da dieci anni villier li ossessionava come l'ombra vaga di una colpa che in realtà essi non avevano insieme avevano fatto gli studi universitari e la specializzazione quattro elementi scelti e appassionati del loro mestiere che venivano addestrati per una professione assurda a nuovi vertici in quell'epoca di viaggi interplanetari sugli altri mondi circondati dal vuoto e liberi dall'aria che offuscava le immagini si stavano aprendo nuovi osservatori c'era l'osservatorio lunare dal quale era possibile studiare la terra e i pianeti più interni del sistema solare un mondo di silenzio nel cui cielo pendeva come sospeso il pianeta natio l'osservatorio di mercurio il più vicino al sole appollaiato presso il polo nord di mercurio dove la linea di divisione tra la parte illuminata e quella in ombra era pressoché immobile e il sole fisso sull'orizzonte poteva essere studiato nei più piccoli particolari l'osservatorio di cerere il più recente il più moderno il cui campo d'esplorazione si estendeva da giove alle più lontane galassie c'erano svantaggi si sa essendo i viaggi interplanetari ancora difficoltosi i permessi sarebbero stati rari condurre una vita normale sarebbe stato praticamente impossibile ma quella era ugualmente una generazione fortunata gli scienziati degli anni a venire avrebbero trovato ben mietuti i campi della conoscenza e fino all'invenzione della propulsione interstellare nessun orizzonte altrettanto vasto si sarebbe più dischiuso ciascuno dei membri del fortunato quartetto tagliaferro riger caunas e villier si sarebbe trovato nella posizione di un galileo il quale per il solo fatto di possedere il primo vero telescopio non poteva puntarlo da nessuna parte nel cielo senza fare una grossa scoperta ma ecco che villier si era ammalato di febbre reumatiche di chi era la colpa quelle febbre gli avevano lasciato il cuore debole e malaticcio villier era il più brillante dei quattro il più appassionato il più dotato e non poteva nemmeno finire i suoi studi per conseguire la specializzazione peggio ancora non avrebbe mai potuto lasciare la terra l'accelerazione di un decollo d'astronave gli sarebbe costata la vita tagliaferro era destinato alla luna riger a cerere caunas a mercurio soltanto villier sarebbe rimasto a casa prigioniero a vita della terra avevano cercato di esprimergli la loro comprensione e villier l'aveva respinta con un'animosità che rasentava l'odio li aveva insolentiti e maledetti quando riger persa la pazienza aveva fatto l'atto di reagire villier l'aveva investito urlando come una furia e gli aveva fratturato il naso con un pugno riger ovviamente se ne ricordava molto bene mentre si accarezzava piano piano il naso con il dito caunas aveva la fronte aggrottata è qui alla convenzione sapete disse a una stanza qui nell'albergo la 405 io non voglio vederlo dichiarò riger sta venendo su ha detto che voleva parlarci pensavo per le nove ha detto sarà qui a momenti quando è così disse riger non avertene a male ma io me ne vado si alzò ma no aspetta interloquì tagliaferro che male c'è a vederlo in fondo nessun male ma non c'è scopo è un pazzo e con ciò su uno facciamo i ragazzini hai paura di lui paura riger aveva un tono sprezzante innervosito allora che motivo hai di innervosirti non sono affatto nervoso protestò riger sì che lo sei ci sentiamo tutti in colpa verso di lui e senza nessuna ragione niente di quanto è accaduto era colpa nostra ma stava parlando in tono di difesa e lo sapeva e quando proprio in quell'istante sentirono bussare all'uscio trasalirono tutti e tre e si girarono a fissare a disagio la barriera che stava tra loro e villier la porta si aprì e il romero villier entrò nella stanza gli altri si alzarono rigidamente per salutarlo e rimasero così impacciati senza che una sola mano venisse tesa l'altro li fissava con aria sardonica lui si è cambiato pensò tagliaferro era cambiato sembrava rimpicciolito in tutti i sensi l'atteggiamento un po curvo lo faceva apparire perfino più basso la pelle del cranio luccicava attraverso i capelli radi il dorso delle mani era solcato di nodose vene bluastre aveva l'aspetto sofferente sembrava non esserci più niente che lo collegasse con il ricordo del passato salvo forse il vezzo di farsi schermo agli occhi con una mano quando fissava intensamente e quando parlava in tono baritonale ben modulato e fermo della voce amici miei disse amici viaggiatori dello spazio ci siamo persi di vista ciao vigliè disse tagliaferro vigliè lo guardò come stai non c'è male e voi altri due caunas mormorò qualcosa bozzando un mezzo sorriso riger scattò coraggio vigliè che cosa c'è riger il collerico disse vigliè come va a succedere andava tutto bene quando ne sono venuto qui e qui sulla terra puoi vederlo da te rispose l'altro ma si era irrigidito nel dirlo spero continuò che il motivo per cui siete venuti alla convenzione tutti e tre sia di ascoltare la comunicazione che farò io dopo domani la tua comunicazione quale domandò tagliaferro vi ho scritto tutto in proposito il mio metodo di trasferimento di massa riger sorrideva con un solo angolo della bocca ci hai scritto sì non hai parlato affatto di comunicazioni però e non ricordo affatto che tu sia in lista tra gli oratori se ci fosse stato il tuo nome me ne sarei accorto hai ragione non sono in lista non ho neppure preparato un estratto per la pubblicazione vigliè si era fatto tutto rosso e tagliaferro disse con fare conciliante non agitarti vigliè non stai bene si vede vigliè si girò di scatto le labbra contratte il mio cuore regge grazie senti vigliè interloqui caonas se non sei tra gli oratori e se non hai preparato sentite voi piuttosto ho aspettato dieci anni voi avete gli incarichi nello spazio mentre io devo fare l'insegnante qui sulla terra ma in compenso io valgo più di tutti quanti voi stessi messi assieme siamo d'accordo cominciò a dire tagliaferro e non voglio la vostra condiscendenza sia ben chiaro mendel è stato testimone immagino che avrete sentito parlare di mendel bene è il presidente della divisione di astronautica alla convenzione e io gli ho dato una dimostrazione di trasferimento di massa era un congegno rudimentale ed è saltato dopo che l'avevo usato una volta sola mi state ascoltando ti stiamo ascoltando disse gelidamente reiger per quello che serve mendel lascerà che io ne parli a modo mio potete scommettere che lo farà senza pubblicità senza nessun preavviso lancerò la notizia come una bomba quando darò a tutti i dati fondamentali della mia scoperta la convenzione si scioglierà tutti si precipiteranno a far ritorno ai rispettivi laboratori per controllare quei dati e costruire le apparecchiature necessarie e constateranno che funzionano sono riuscito a far sparire un topo vivo da un angolo del mio laboratorio e farlo riapparire all'angolo opposto mendel ha visto era presente li guardava fissando intensamente prima l'uno poi l'altro non mi credete vero visto che non vuoi pubblicità osservò reiger perché vieni a dircelo con voi è diverso siete miei amici i miei compagni di studi quelli che se ne sono andati nello spazio e mi hanno lasciato indietro non è di pesa da noi la scelta obiettò caunas con voce acuta un po stridula vigli lo ignorò così ho voluto informarvi subito quello che funziona per un topo funzionerà anche per un essere umano quello che può muovere di tre metri una cosa attraverso un locale di laboratorio potrà spostarla attraverso lo spazio di milioni di chilometri sarò sulla luna su mercurio su cerere e in qualsiasi altro luogo dove mi piaccia andare uguaglierò e supererò ciascuno di voi e avrò fatto più io per l'astronomia rimanendomene qui a insegnare a pensare che tutti quanti voi con i vostri osservatori i vostri telescopi le vostre macchine fotografiche le vostre navi spaziali bene disse tagliaferro mi fa piacere ti auguro di arrivare lontano potrei vedere una copia del tuo lavoro anno vigliessi portò le mani al petto come per stringersi al cuore dei fogli invisibili e proteggerli dalla curiosità altrui aspetterai anche tu come tutti ne ho una copia soltanto e nessuno la vedrà finché non lo dirò io nemmeno mandel una copia esclamò tagliaferro ma se per caso tu la perdessi non la perderò e quando anche ho tutto qui nel cervello se tu tagliaferro per poco non finì la frase con un morissi ma si fermò in tempo invece continuò dopo una pausa impercettibile avessi buon senso provvederesti almeno a filmi copiarlo tanto per precauzione no disse vigliessi brigativo mi ascolterete dopo domani vedrete l'orizzonte umano espandersi in un solo colpo come mai era accaduto finora fissò di nuovo uno per uno con aria intenta dieci anni disse arrivederci è pazzo lo rupperai ger rabbiosamente fissando la porta come se vigliessi fosse ancora fermo là matto ripete tagliaferro pensosamente sì forse sì in un certo senso ci odia per motivi irrazionali e poi il fatto di non avere neppure filmi copiato il lavoro a titolo di precauzione nel dire questo tagliaferro giocarellava con il suo minuscolo filmi copiatore era un semplice cilindro di colore neutro un po più corto e un po più grosso di una normale matita in anni recenti era diventato il contrassegno dello scienziato proprio come lo stetoscopio lo era del medico e il micro calcolatore lo era dell'esperto di statistica il filmi copiatore si portava in una tasca della giacca o fissato a una manica per mezzo di una clip o infilato dietro l'orecchio o semplicemente appeso a una catenella a volte quando era in vena di meditazioni tagliaferro si domandava come avessero fatto ai tempi in cui i ricercatori erano costretti a prendere faticosi appunti o a tenere ristampe e fotocopie in grandezza normale che cosa ingombrante ora bastava far scorrere il filmi copiatore su qualsiasi pagina scritta a mano o stampata per avere un micro negativo da svilupparsi se e quando ve ne fosse stato bisogno tagliaferro aveva già registrato ogni estratto incluso nel fascicolo del programma lì alla convenzione gli altri due ne era assolutamente certo avevano fatto come lui considerate le circostanze disse ancora rifiutarsi di filmi copiare è follia per lo spazio proruppe aiger accalorandosi per me non esiste nessun lavoro nessuna scoperta quello è capace di qualsiasi bugia pur di far vedere che vale più di noi già ma come se la caverà dopo domani obiettò caunas e che ne so io è pazzo tagliaferro stava ancora giocarellando con il copiatore domandandosi oziosamente se non fosse il caso di rimuovere e sviluppare alcune delle minuscole striscioline di film immagazzinate nell'interno dell'apparecchietto poi decise di lasciar perdere non sottovalutate vigliè disse è un bel cervello dieci anni fa forse disse riger ora è un visionario sentite perché non parliamo d'altro parlava a voce alta quasi volesse scacciare l'argomento vigliè e tutto ciò che a quello si ricollegava grazie alla vehemenza con cui discuteva del resto cominciò a raccontare di cerere e del suo lavoro la radioplanimetria della via lattea con i nuovi radioscopi dotati di tale potere risolutivo da individuare ogni singola stella caunas ascoltava e assentiva poi diede a sua volta informazioni riguardanti le radio emissioni delle macchie solari e il suo lavoro già pubblicato sul rapporto tra le tempeste di protoni e le vampate di idrogeno sulla superficie solare tagliaferro contribuì poco o niente alla conversazione il lavoro lunare era privo di fascino a confronto le ultimissime informazioni sulle previsioni del tempo su lunga scala non si potevano certo paragonare con i radioscopi e le tempeste di protoni inoltre non riusciva a staccare il pensiero da vigliè vigliè era il cervello del gruppo tutti loro lo sapevano perfino riger nonostante i discorsi che faceva doveva essere convinto che se il trasferimento di massa era possibile vigliè ne era lo scopritore più probabile la discussione sul loro lavoro personale non ammontava ad altro che all'ammissione fatta un po a torto collo di non aver concluso molto nessuno di loro tagliaferro si era tenuto al corrente e lo sapeva le sue pubblicazioni erano state di poca importanza lo stesso si poteva dire degli altri due nessuno di loro tanto valeva ammetterlo era assurdo alle altezze dei grandi scopritori gli ambiziosi sogni dei giorni di scuola non si erano avverati erano tre ricercatori competenti ma non si sollevavano al di sopra della media capaci sì ma niente di più e niente di meno e lo sapevano vigliè sarebbe diventato ben altro sapevano anche questo ed era quella consapevolezza ad alimentare il loro antagonismo nei confronti del collega tagliaferro sentiva suo malgrado che vigliè nonostante tutto poteva ancora diventare qualcuno anche gli altri dovevano pensarlo naturalmente e ben presto avrebbero finito per trovare la loro mediocrità insopportabile la comunicazione sul trasferimento della massa sarebbe stata approvata e vigliè sarebbe diventato un gran duomo come sembrava che fosse scritto in cielo mentre i suoi compagni di corso nonostante i vantaggi goduti sarebbero finiti nell'oblio la loro parte sarebbe stata unicamente quella di applaudire mescolati tra la folla anonima sentiva tutta la propria invidia e il proprio avvilimento ne provava vergogna ma non poteva fare a meno di sentirli la conversazione languì e a un tratto caunas evitando lo sguardo dei colleghi disse sentite perché non facciamo una capatina dall'amico vigliè c'era una falsa cordialità in quella proposta uno sforzo di mostrarsi disinvolto che non convinceva affatto non c'è ragione di lasciar sussistere tanta credine è senza alcuna necessità tagliaferro pensò vuole sapere se è vera la scoperta sul trasferimento di massa si augura che si tratti soltanto del farneticare di un visionario deve appurarlo o non riuscirà a chiudere occhio stanotte ma era curioso a sua volta di sapere per cui non fece obiezioni e perfino reiger alzò le spalle con malagrazia e disse ma sì perché no mancava poco alle 11 tagliaferro venne svegliato da uno squillo insistente qualcuno bussava alla porta della sua camera si sollevò su un gomito nell'oscurità con un vivo senso di indignazione il tenue chiarore dell'indicatore sul soffitto lo informava che non erano ancora le 4 del mattino chi è gridò la bussata continuava con trilli brevi e insistenti brontolando tagliaferro si infilò la vestaglia aprì la porta e ammiccò nella luce del corridoio riconobbe l'uomo che gli stava di fronte dalle foto tridimensionali che aveva visto abbastanza spesso ciò nonostante l'uomo si presentò con un brusco bisbiglio mi chiamo hubert mandel lo so signore mandel era in astronomia uno dei nomi noto abbastanza per ricoprire un'importante carica direttiva presso l'ufficio astronomico mondiale attivo al punto da essere presidente della sezione astronautica lì alla convenzione tagliaferro si ricordò all'improvviso che era mandel quello al quale vigliè affermava d'aver dato dimostrazione del suo esperimento per trasferire la massa chissà perché il pensiero di vigliè destò in lui un senso di apprensione lei è il dottor edward tagliaferro disse mandel sì signore allora si veste venga con me è molto importante riguarda una conoscenza comune il dottor vigliè un breve lampo passò nello sguardo di mandel l'uomo aveva ciglia e sopracciglia talmente bionde da dare ai suoi occhi un aspetto nudo e stranamente slavato perché ha pensato subito a vigliè ha nominato lei ieri sera non so di altre conoscenze comuni mandel la sentì aspettò che tagliaferro finisse di vestirsi poi si incamminò per primo facendo strada reiger e caunas stavano aspettando in una stanza a un piano più su di quella di tagliaferro caunas aveva gli occhi rossi e appariva turbato reiger fumava nervosamente una sigaretta siamo tutti qui osservò tagliaferro un'altra riunione il suo commento cadde nel vuoto lui allora si mise a sedere e rimasero a fissarsi tutti e tre reiger accennò una stretta di spalle mandela andava su e giù le mani sprofondate nelle tasche chiedo scusa ad avervi disturbato signori disse e vi ringrazio della collaborazione vorrei poter fare ulteriore affidamento su di voi il nostro amico romero vigliè è morto circa un'ora fa il suo cadavere è stato portato via dall'albergo la morte è sopravvenuta per collasso cardiaco seguì un silenzio carico di stupore la sigaretta di reiger oscillò a mezz'aria poi ricadde senza arrivare alle labbra poveraccio mormorò tagliaferro è orribile bisbigliò in tono rauco cammas era la voce gli mancò reiger si scosse beh aveva il cuore molto malato non c'è niente da fare purtroppo una piccola cosa lo corresse tranquillamente mandel chiarire il mistero che cosa significa domandò reiger subito attento voi tre quando l'avete visto l'ultima volta rispose tagliaferro ieri sera c'è stata una specie di riunione era la prima volta che ci rivedevamo dopo dieci anni non è stata mi dispiace molto un'allegra rimpatriata vigliè sentiva ad avere motivi di rancore verso di noi ed era pieno di amarezza questo è stato a che ora verso le nove la prima volta la prima volta più tardi nel corso della serata l'abbiamo rivisto caunas aveva sempre l'aria turbata si era congedato da noi in modo brusco ci dispiaceva lasciare le cose così dovevamo fare almeno un gesto di buona volontà in fondo un tempo eravamo stati molto amici così siamo andati in camera sua e bundle non lo lasciò finire siete entrati tutti in quella stanza sì confermò caunas sorpreso a che ora le undici credo caunas guardò gli altri due tagliaferro assentì e quanto tempo vi siete trattenuti due minuti circa disse reiger ci ha ordinato di andarcene quasi fossimo lì per rubargli il suo lavoro tacque come aspettandosi che mandel domandasse quale lavoro ma mandel taceva e lui continuò penso che lo tenesse sotto il cuscino per lo meno si era steso quasi sopra il cuscino mentre ci gridava di andarcene forse stava già per morire disse caunas in un mormorio pieno d'orrore a quell'ora no disse sbrigativo mandel così tutti voi probabilmente avrete lasciato delle impronte in quella camera è probabile sì convenne tagliaferro stava perdendo un po del suo istintivo rispetto per mandel e si sentiva invece riassalire dall'impazienza mandel non mandel erano le quattro del mattino insomma di che cosa si tratta domandò bene signori disse mandel la morte di vigliè nasconde più di quanto possa apparire a prima vista il lavoro di vigliè l'unica copia esistente per quanto ne so io è stato ficcato dentro l'inceneritore istantaneo per i mozziconi e se ne sono salvati soltanto pochi brandelli non avevo mai visto nel letto quei fogli ma conoscevo abbastanza bene l'argomento di cui trattavano per essere disposto a giurare in tribunale se necessario che i resti di carta rimasti nell'inceneritore appartenevano al lavoro di cui vigliè intendeva darci lettura alla convenzione lei all'aria piuttosto dubbiosa signor riger riger sorrideva incredulo dubito che avesse davvero intenzione di farlo se vuole il mio parere signore vigliè era pazzo da dieci anni era prigioniero della terra e per lui fantasticare sul trasferimento di massa era una forma di evasione la sola cosa che lo tenesse in vita probabilmente sarà riuscito ad architettare chissà quale dimostrazione fraudolenta non dico che la frode fosse deliberata probabilmente era follemente sincero e sinceramente folle ieri sera c'è stata la crisi diremo così è venuto nella nostra stanza ci odiava perché avevamo potuto allontanarci dalla terra e ci ha schiacciati con la sua superiorità da dieci anni viveva in attesa di quel momento che sa forse a contatto con la realtà avrà ritrovato in parte l'equilibrio mentale sapeva di non poter presentare veramente quel lavoro non c'era niente di concreto di cui dare lettura così ha bruciato quei fogli e poi il suo cuore ha ceduto è triste ma mendel era rimasto ad ascoltare l'astronomo di cerere con aria di viva disapprovazione un'abile ricostruzione dottor reiger disse ma completamente sbagliata non mi lascio incantare da false dimostrazioni così facilmente come lei sembra ritenere ora stando ai pochi dati che ho potuto controllare in fretta e furia voi tre eravate suoi compagni di corso all'università esatto assentirono ci sono altri vostri compagni di corso presenti alla convenzione no disse caunas eravamo i soli quattro quell'anno che si laureavano in astronomia poi vi gli essi ammalato e si capisco disse mandel bene in questo caso uno di voi tre è tornato a far visita vie ieri sera verso la mezzanotte cadde un breve silenzio poi reiger dichiarò in tono gelido io no di certo caunas a occhi sgranati scuoteva la testa che cosa vorrebbe insinuare domandò tagliaferro uno di voi è tornato là a mezzanotte e ha insistito per vedere quei fogli per quale motivo lo ignoro presumibilmente con la deliberata intenzione di spingere vie verso il collasso cardiaco appena vie è crollato il criminale se posso chiamarlo così ha agito con molta prontezza si è impadronito dei fogli che probabilmente erano davvero nascosti sotto il cuscino e li ha filmi copiati poi ha distrutto il lavoro originale nell'inceneritore lampo ma aveva fretta e la distruzione è rimasta incompleta lei come lo sa tutto questo domandò reiger è stato testimone per caso quasi rispose mandel vie non è morto quando ha avuto il primo collasso appena il criminale se ne è andato lui è riuscito ad attaccarsi al telefono e a chiamare la mia stanza con voce rotta ha pronunciato alcune frasi sufficienti a delineare quanto è accaduto disgraziatamente io non ero in camera mia ero a una conferenza che si è protratta fino a tarda ora tuttavia la segreteria telefonica registrato il messaggio ascolto sempre la registrazione delle chiamate quando rientro dopo un'assenza abitudini da burocrate ho richiamato ma evidentemente lui era già morto bene disse reiger ma che cosa diceva quel messaggio non molto e quel poco non era ben comprensibile ma una frase risuonava ben chiara era compagno di corso tagliaferro sfilò il copiatore dalla tasca interna della giacca e lo porse a mandel tranquillamente disse se crede sviluppi pure il film del mio copiatore la prego non troverà di certo il lavoro di vie all'istante caunas fece lo stesso e reiger con fiero cipiglio lo imitò mandel prese in consegna i tre copiatori osservando seccamente c'è da presumere che il colpevole abbia già tolto il pezzo di film di cui dicevamo in ogni modo tagliaferro inarcò la fronte l'autorizzo a perquisire la mia persona e la mia camera disse ma reiger era sempre più accigliato un momento un momento lei scusi è forse della polizia mendel lo fissò vuole la polizia sì vuole uno scandalo e un'accusa di omicidio vuole che la convenzione venga sospesa e che la stampa si diverta a infamare l'astronomia gli astronomi la morte di vigliè potrebbe essere stata anche accidentale il cuore malato lui l'aveva quello di voi che è stato là potrebbe aver agito senza premeditazione se costui restituirà il negativo risparmieremo a tutti un bel numero di seccature e di guai anche al criminale domandò tagliaferro mendel allargò le braccia non lo so certo non posso promettergli l'immunità ma se anche subirà delle conseguenze eviterà lo scandalo e la prigione cose che sarebbero inevitabili se venisse messa di mezzo la polizia silenzio è stato uno di voi tre disse mendel silenzio credo di capire il ragionamento del colpevole continuò mendel l'originale sarebbe andato distrutto soltanto noi quattro sapevamo del trasferimento di massa e io solo avevo assistito a una dimostrazione inoltre voi avevate soltanto la parola di lui la parola di un pazzo forse sul fatto che io l'avessi visto morto vigliè di collasso cardiaco e scomparso il lavoro originale sarebbe stato facile credere alla teoria del dottor reiger e cioè che il trasferimento di massa non esisteva né era mai esistito poi trascorsi un anno o due il nostro criminale in possesso dei dati necessari avrebbe potuto rivelarli a poco a poco montare esperimenti pubblicare prudentemente dei risultati e infine approdare all'apparente scoperta con tutto quello che avrebbe comportato di fama e di guadagni nemmeno i suoi antichi compagni di corso avrebbero avuto sospetti al massimo avrebbero pensato che il colloquio con vigliè lo aveva ispirato a condurre ricerche in quel campo niente di più mendel guardò severamente dall'uno all'altro ma niente di tutto questo gli riuscirà ora se uno di voi tre dovesse farsi avanti come l'inventore del trasferimento della massa si autoproclamerebbe un criminale ho visto la dimostrazione so che era ineccepibile so che uno di voi possiede la copia di quel lavoro di conseguenza i dati non gli sono di nessuna utilità e perciò li restituisca silenzio mandel andò verso la porta poi tornò a girarsi vi sarei grato se voleste rimanere qui fino al mio ritorno non ci vorrà molto spero che il colpevole approfitterà di questo intervallo per riflettere se teme che una confessione possa costargli l'impiego si ricordi che l'intervento della polizia potrebbe fargli perdere la libertà e costargli la sonda psichica prese con sé i tre copiatori assunse un'espressione truce e al tempo stesso assonnata vado a sviluppare questi film caunas tentò di sorridere e se durante la sua assenza cercassimo di prendere la fuga uno soltanto di voi ha ragione di tentarla rispose mandel penso di poter contare sui due innocenti perché controllino il colpevole non fosse che per autoprotezione e lasciò la stanza erano le cinque del mattino reiger guardò indignato all'orologio ma che razza ad una storia io voglio dormire possiamo tentare di dormire qui disse tagliaferro filosoficamente nessuno di voi pensa di fare una confessione caunas non gli rispose e reiger abbozzò una smorfia pare di no tagliaferro chiuse gli occhi appoggiò la grossa testa contro lo schienale della poltrona e disse con voce stanca lassù sulla luna ora è stagione morta abbiamo una notte di due settimane e allora si lavora e si lavora poi vengono due settimane di sole e allora non si fanno che calcoli correlazioni e così via è il momento peggiore lo detesto se almeno ci fossero più donne se potessi organizzare qualcosa di permanente in un bisbiglio caunas parlò del fatto che era ancora impossibile avere l'intero sole al di sopra dell'orizzonte e in vista del telescopio su mercurio ma grazie ad altri tre chilometri di rotaie che presto sarebbero stati posati per l'osservatorio per spostare l'intero complesso capito la spinta necessaria era tremenda bisognava sfruttare direttamente l'energia solare forse la cosa sarebbe stata risolta bisognava che fosse risolta perfino riger acconsentì a parlare di cerere dopo aver ascoltato il mormorio delle altre due voci là c'era il problema del pericolo di rotazione di due ore il che significava che le stelle schizzavano attraverso il cielo a una velocità angolare 12 volte superiore a quella che avevano nel cielo della terra una rete di tre radioscopi tre luciscopi tutto triplo insomma coglieva e passava i campi di studio da una pericchiatura all'altra via via che quelle sfrecciavano oltre non potreste usare uno dei poli domandò caunas tu pensi a mercurio e al sole replicò riger spazientito perfino ai poli il cielo continuerebbe a ruotare e una metà ribellerebbe sempre nascosta ora se cedere mostrasse una faccia soltanto al sole come fa mercurio potremmo avere un cielo permanentemente notturno con le stelle stelle che ruotano lentamente una volta ogni tre anni fuori il cielo si rischiarava e lentamente spuntava l'alba tagliaferro era mezzo addormentato ma stava bene attento a rimanere sveglio almeno in parte ciascuno di noi pensava in questo momento si sta domandando chi chi beh salvo il colpevole naturalmente tagliaferro riaprì gli occhi di scatto perché mendel stava rientrando il cielo visto dalla finestra era diventato azzurro tagliaferro era contento che la finestra fosse chiusa l'albergo aveva l'aria condizionata naturalmente ma durante le stagioni più miti dell'anno le finestre volendo potevano essere aperte da quei terrestri che amavano l'illusione di respirare l'aria fresca tagliaferro che aveva in mente il vuoto della luna rabbrividiva al solo pensiero con vero sgomento nessuno di voi ha niente da dire domandò mendel lo fissarono tutti senza battere ciglio reiger fece segno di no ho sviluppato i film dei vostri copiatori riprese mandel e ho esaminato i risultati gettò sul letto copiatori e materiale sviluppato niente avrete un po di difficoltà a dividere il film temo me ne dispiace e ora c'è ancora la questione del film mancante se manca davvero disse reiger con un portentoso sbadiglio proporrei signori che mi accompagnaste tutti nella stanza di vie disse mandel caunas lo guardò meravigliato perché forse una misura psicologica domandò tagliaferro portiamo il criminale sulla scena del delitto e il rimorso lo indurrà a confessare la ragione assai meno melodrammatica disse mandel è che vorrei l'aiuto dei due che sono innocenti per poter ritrovare il film mancante del lavoro di vie pensa che sia là domandò reiger con aria di sfida può darsi è un modo per cominciare poi possiamo passare a perquisire le vostre stanze il simposio sull'astronautica non comincerà prima di domani mattina alle 10 abbiamo tempo fino a quell'ora e poi può darsi che si debba far intervenire la polizia avanzarono esitanti nella stanza di vie reiger era rosso caunas era pallido tagliaferro si sforzava di rimanere calmo la sera innanzi avevano visto quella stanza con la luce artificiale e con vie che torvo e scarmigliato si aggrappava al cuscino fissandoli con ira e ordinando loro di andarsene ora la dentro stagnava l'odore indefinibile della morte mandel armeggiò con il polarizzatore della finestra per fare entrare altra luce ma sbagliò nel regolarlo così che il sole da oriente filtrò nella stanza subito caunas levò le braccia per farsi schermo agli occhi e gridò il sole in modo tale che gli altri si sentirono raggelare la faccia di caunas mostrava una sorta di terrore come se fosse il sole mercuriano quello di cui egli aveva colto la visione accecante tagliaferro pensò alla propria creazione alla possibilità di una finestra aperta e di grignò i denti dieci anni di lontananza dalla terra avevano influito sul loro sistema nervoso caunas accorse alla finestra trafficò con il polarizzatore poi si lasciò sfuggire un grido strozzato mandel e gli fu subito accanto che cosa c'è gli altri due accorsero la città si stendeva sotto di loro fino all'orizzonte come un mare di pietra e di tegole inondato dal sole mattutino con le parti in ombra verso di loro dagli aferro getto fuori un'occhiata furtiva e di disagio caunas con il petto contratto al punto da non riuscire a emettere un suono fissava qualcosa di molto più vicino là sul davanzale esterno con un angolo conficcato per sicurezza dentro una piccola crepa del cemento c'era una strisciolina lunga tre centimetri di pellicola color latte sulla quale battevano in pieno i raggi del sole con un'esclamazione irata e incoerente mendel sollevò di scatto il telaio della finestra e afferrò il microfilm gli fece riparo con la mano a coppa fissandolo con gli occhi ardenti e arrossati aspettate qui ordinò ai tre non c'era niente da ribattere mendel uscì loro sedettero e rimasero a fissarsi l'un l'altro con aria istupidita di lì a venti minuti mendel era di ritorno tranquillamente ma con voce che dava non si sa come l'impressione d'essere calma solo perché il proprietario era ormai al di là di qualsiasi reazione disse l'angolo infilato nella crepa non era sovraesposto ho potuto decifrare alcune parole è proprio il lavoro di vie il resto è rovinato niente potrà essere recuperato il testo è perduto per sempre e ora domandò tagliaferro che cosa si fa mendel alzò le spalle sfinito a questo punto non me ne importa più niente il trasferimento della massa è perduto fino al giorno in cui un altro genio come vie arriverà allo stesso risultato mi proverò a lavorarci io ma non mi faccio illusioni sulle mie capacità perduto il materiale mi sembra che voi altri tre colpevoli oppure no non abbiate più nessuna importanza che differenza fa l'intera sua persona sembrava indebolita e affondata nella disperazione ma tagliaferro protestò con voce dura è no un momento ai suoi occhi ognuno di noi tre può essere il colpevole io per esempio lei è un uomo che conta nel nostro campo e certo non avrà mai una parola buona da dire per me potrebbe diffondersi il concetto generale che io sia incompetente o peggio non mi lascerò rovinare dall'ombra di un sospetto su vediamo di risolvere questa faccenda non sono un investigatore io replicò mandel svogliatamente e allora maledizione chiamiamo la polizia un momento tagliaferro stai per caso insinuando che il colpevole sia io volle sapere reiger dico soltanto che io sono innocente caunas cominciò a protestare atterrito significherà la sonda psichica per ciascuno di noi potremmo riportare danni mentali mendel levò in aria tutte e due le braccia signori signori per favore c'è una cosa che potremmo fare per evitare di chiamare la polizia e lei è ragione dottor tagliaferro sarebbe ingiusto verso gli innocenti lasciare questa faccenda in sospeso tutti si girarono verso di lui e tutti erano più o meno ostili che cosa propone domandò reiger ho un amico di nome wendel hurt forse l'avrete sentito nominare forse no ma ora vedrò se posso convincerlo a riceverci stasera stessa scusi e dopo che l'avrà convinto volle sapere tagliaferro che cosa ce ne verrà in tasca è un uomo strano disse mendel con fare esitante molto strano e molto brillante a modo suo ha aiutato la polizia in diverse occasioni e chissà che non possa aiutare noi parte seconda eduarda tagliaferro non poteva trattenersi dal fissare assolutamente sbalordito la stanza e il suo occupante l'una e l'altro sembravano esistere in una sorta di isolamento sembravano esser parte di un mondo non riconoscibile i rumori della terra erano assenti in quel nido bene imbottito e senza finestre luce e aria terrestri erano state bandite in favore del condizionamento e dell'illuminazione artificiale la stanza era larga in penombra e molto ingombra loro si erano fatti strada attraverso un pavimento disseminato di oggetti fino a un divano dal quale dei libri filmati erano stati piazzati in là bruscamente e scaraventati in un angolo alla rinfusa il proprietario della stanza aveva una faccia larga e rotonda sopra un corpo rotondo e tozzo si muoveva svelto sulle gambe corte muovendo a scatti la testa nel parlare a rischio di sbalzar via le grosse lenti dalla piccolissima protuberanza a pallottola che gli serviva da naso gli occhi un po sporgenti dalle palpebre spesse lasciavano vagare sugli ospiti lo sguardo miope e bonario mentre egli se ne stava installato alla combinazione sedia scrivania illuminata direttamente da un'unica lampada forte della stanza davvero gentili a venire signori scusino prego le condizioni della mia stanza agitò le tozze dita in un gesto ampio ero occupato a catalogare i molti oggetti di interesse extraterrologico che ho accumulato una fatica tremenda per esempio schizzò dal sedile e si infilò in un mucchio di oggetti accanto alla scrivania finché portò alla luce un qualcosa di colore grigio fumo semitrasparente e vagamente cilindrico questo disse è un oggetto callistano che potrebbe anche essere appartenuto a entità intelligenti non umane non è certo ne sono stati scoperti una dozzina in tutto e questo chi lo sappia è il singolo esemplare più perfetto lo gettò in un canto e tagliaferro trasalì lo metto grassoccio lo guardò e si affrettò a rassicurarlo è infrangibile tornò a sedersi intrecciò strettamente le dita grassocce sull'addome dove rimasero ad andare su e giù a tempo con il suo respiro e allora che cosa posso fare per questi signori hubert mandel aveva fatto le presentazioni e tagliaferro stava riflettendo intensamente senza dubbio era stato un certo wendel urt che recentemente aveva pubblicato un libro dal titolo processi evoluzionari comparativi sui pianeti ad acqua e ossigeno gli sembrava impossibile che si trattasse della stessa persona dottor urt domandò è lei l'autore dei processi evoluzionari comparativi un sorriso di beatitudine si allargò sul volto di urt l'ha letto beh non non l'ho letto ma all'istante l'espressione di urt divenne censoria allora deve leggerlo subito aspetti devo averne una copia balzò di nuovo dalla sedia e subito mandel gridò aspetta urt una cosa per volta la cosa è seria capisci costrinse praticamente urt a sedersi di nuovo e cominciò a parlare rapidamente come per impedire il sorgere di ulteriori motivi di distrazione riferì l'intera storia con encomiabile economia di parole urt ascoltava e intanto andava facendosi sempre più rosso in viso afferrò gli occhiali e se li spinse più in alto sul naso trasferimento della massa esclamò l'ho visto con i miei occhi assicurò mendel e non mi dicevi niente avevo giurato di mantenere il segreto era un uomo strano ecco ma questo te l'ho già spiegato urt percoteva con il pugno la scrivania mendel mendel come hai potuto permettere che una simile scoperta rimanesse di proprietà di un pazzoide bisognava cavargli i dati con la sonda psichica se necessario al rischio di ucciderlo protestò mendel ma urt si dondolava avanti e indietro con le mani premute con forza sulle tempie il trasferimento della massa il solo modo in cui la gente civile dovrebbe viaggiare il solo modo possibile l'unico concepibile se l'avessi saputo se fossi stato là io ma l'albergo dista quasi 50 chilometri da qui riger che ascoltava con espressione annoiata interloqui se non sbaglio c'è la linea diretta per il palazzo delle convenzioni in dieci minuti lei poteva essere là urt si rigidì e fissò riger in modo strano gonfiò le guance poi balzò in piedi e sgattaiolo via dalla stanza cosa diavolo gli è preso domandò riger maledizione brontolò mendel avrei dovuto avvertirvi di che il dottor urt non viaggia con nessun genere di mezzo di trasporto è una fobia lui si sposta unicamente a piedi caunas batte le palpebre per la meraviglia nel suo angolo un po in penombra ma non è un extraterrologo un esperto delle forme di vita sugli altri pianeti tagliaferro si era alzato e ora se ne stava davanti a una lente galattica montata su un piedistallo fissava lo scintillio interno dei sistemi stellari non aveva mai visto una lente così grande e così elaborata sì è un extraterrologo disse mendel ma non ha mai visitato nessuno dei pianeti di cui è esperto nemmai lo farà in 30 anni dubito che sia mai andato più in là di un chilometro da casa sua riger rise mendel si fece rosso di rabbia vi sembra ridicolo lo so ma ugualmente vi sarò grato se in presenza del dottor urt starete tutti molto attenti a come parlate urt ritornò di lì a pochi istanti le mie scuse signori mormorò e ora vediamo di affrontare il nostro problema forse uno di voi desidera confessare tagliaferro storse le labbra quell'extraterrologo grassoccio prigioniero delle proprie manie non era certo individuo da strappare una confessione a qualcuno con la sua presenza fortunatamente non vi sarebbe stato bisogno del talento investigativo di urt ammesso che quel talento esistesse dottor urt disse a voce alta tagliaferro lei è in qualche rapporto con la polizia una certa aria tronfia parve diffondersi sulla faccia rubizza dell'altro ufficialmente no dottor tagliaferro ma in senso non ufficiale i miei rapporti con quei signori sono ottimi in questo caso le dirò io qualcosa che lei poi potrà riferire alla polizia urt contrasta l'addome e diede una tiratina al davanti della camicia un lembo uscì dalla cintura dei calzoni e lui con molta calma se ne servì per lucidare gli occhiali e sarebbe le dirò chi era presente quando vi è morto e chi ha film copiato quei fogli così lei ha chiarito il mistero è tutta la giornata che ci penso credo proprio di averlo risolto tagliaferro se la godeva vedendo che le sue parole facevano effetto bene allora eduarda tagliaferro tirò un profondo sospiro non sarebbe stato facile nonostante vi si stesse preparando da ore il colpevole dichiarò è evidentemente il dottor hubert mandel mandel fissò tagliaferro con un'indignazione immediata che quasi gli mozzava il respiro senta un po dottore proluppe con voce tonante non so su quali basi lei appoggi una così ridicola la voce tenorile di urt si fece udire sopra la breve esitazione dell'altro lascialo parlare hubert sentiamo che cosa dice hai sospettato di lui non c'è legge che gli impedisca di sospettare di te mandel si chiuse in un irritato silenzio senza permettere alla sua voce di tremare tagliaferro continuò è più che un sospetto dottor urt la cosa parla da sé direi quattro di noi sapevano del trasferimento di massa ma uno soltanto il dottor mandel aveva assistito a una dimostrazione pratica lui sapeva che era un fatto concreto sapeva che il lavoro scritto sull'argomento esisteva noi tre sapevamo soltanto che via era più o meno squilibrato sì ci saremo anche detti che una possibilità tutto sommato esisteva siamo andati da lui verso le undici proprio perché penso avevamo questa pulce nell'orecchio anche se nessuno di noi voleva ammetterlo apertamente ma lui si è comportato da pazzo più del solito in un secondo momento la pregherò di esaminare le cognizioni particolari e i motivi del dottor mandel per adesso dottor urt la invito a raffigurarsi la scena chiunque abbia affrontato vigliè a mezzanotte l'abbia visto crollare e abbia filmi copiato il lavoro scritto lasciamolo pure anonimo per il momento deve essere rimasto terribilmente spaventato nel vedere vigliè tornare alla vita diremo così e nel sentirlo parlare al telefono preso dal panico il nostro criminale si è reso conto di una sola cosa doveva sbarazzarsi dell'unico indizio materiale che potesse incriminarlo doveva cioè sbarazzarsi del film ancora da sviluppare e sbarazzarsene in modo da nasconderlo in luogo sicuro per poterlo riprendere in seguito sempre che nel frattempo non fosse stato smascherato il davanzale esterno della finestra era un nascondiglio ideale in tutta fretta e il criminale ha sollevato il telaio della finestra di vie ha sistemato la strisciolina di film all'esterno e ha lasciato la stanza ora quando anche vie non fosse morto oppure quando anche la telefonata fatta dal morente avesse dato dei risultati vi sarebbe stata soltanto la parola di vie contro quella del colpevole e sarebbe stato facile dimostrare che vie era uno squilibrato tagliaferro tacque già assaporando il trionfo la sua tesi indubbiamente era irrefutabile wendelourt lo fissava battendo le palpebre e facendo girare i pollici delle mani intrecciate facendoli battere via contro l'ampio davanti della camicia e l'importanza di tutto questo l'importanza risiede nel fatto che la finestra è stata aperta e il film collocato all'aperto ora riger vive da dieci anni su cerere caunas su mercurio e io sulla luna questo salvo brevi permessi e per di più molto rari appunto ieri parlando tra noi abbiamo spesso accennato alla difficoltà di riambientarci sulla terra i nostri mondi di lavoro sono tutti e tre ambienti senza aria non usciamo mai all'aperto senza la tuta per noi esporci a uno spazio non chiuso e delimitato è impensabile nessuno di noi sarebbe stato in grado di aprire una finestra senza prima sostenere una lotta con se stesso il dottor mandel invece ha vissuto esclusivamente sulla terra aprire una finestra per lui è soltanto questione di un piccolissimo sforzo muscolare lui poteva farlo noi no ergo è stato lui tagliaferro tacque si appoggiò meglio alla spalliera del divano e sorrise perdiana ma è così esclamò riger con entusiasmo non è affatto così invece tuonò mendel sollevandosi in parte dalla sedia come tentato di afferrare tagliaferro per il collo nego l'intera miserabile menzogna e la registrazione che ho della telefonata di vie allora lui ha usato l'espressione compagno di corso l'intero nastro rende evidente era in punto di morte lo interruppe tagliaferro lei stesso ha ammesso che gran parte di quanto vie ha detto è incomprensibile senza aver ascoltato il nastro io le domando dottor mendel se non è forse vero che la voce di vie risulta alterata e irriconoscibile beh balbettò mendel confuso sicuramente è così viene istintivo domandarsi allora se lui stesso non abbia truccato in precedenza quel nastro completando il tutto con l'espressione incriminante compagno di corso santo cielo obiettò mendel come potevo sapere che c'erano dei compagni di corso alla convocazione come potevo sapere che erano stati informati sul trasferimento di massa potrebbe averglielo detto vie presumo anzi che sia così ora ascoltate me disse mendel voi altri tre avete visto vie vivo alle undici il perito legale nell'esaminare il cadavere di vie poco dopo le tre del mattino ha dichiarato che la morte risaliva un paio d'ore prima come minimo l'ora del decesso perciò era compresa tra le undici e la una di stanotte ieri sera io sono stato a una conferenza che è finita tardissimo posso provare dove mi trovavo cioè a chilometri dall'albergo tra le dieci e le due di notte e lo confermerà almeno una decina di testimoni tutti al di sopra di qualsiasi sospetto vi basta sì tagliaferro rimase un momento silenzioso poi continuò ostinatamente e va bene ammettiamo che lei sia rientrato in albergo alle due e trenta è andato nella stanza di vie per parlargli di qualcosa ha trovato la porta aperta oppure aveva una seconda chiave in ogni modo l'ha trovato morto ne ha subito approfittato per filmare quei fogli con il copiatore ma se lui era già morto e non poteva fare telefonate perché io avrei nascosto il film per allontanare da sé ogni sospetto poteva anche avere in suo possesso una seconda copia del film messa al sicuro del resto chi ci dice che il lavoro originale sia andato davvero distrutto di questo abbiamo soltanto la sua parola ora basta ora basta si impose urt è un'ipotesi interessante dottor tagliaferro che però crolla sotto il suo stesso peso tagliaferro lo guardò accigliandosi questa sarà la sua opinione forse sarebbe l'opinione di chiunque di chiunque sia dotato della capacità di ragionare si intende ma non vede che hubert mandel ha fatto troppe cose per poter essere lui il criminale no disse tagliaferro wendel hurt sorrise benignamente come scienziato dottor tagliaferro lei sicuramente non commetterà l'errore di innamorarsi delle teorie a esclusione dei fatti e dei ragionamenti mi faccio il piacere di comportarsi in modo analogo anche come investigatore rifletta il dottor mandel sia che avesse provocato la morte di vie e si fosse poi procurato un alibi sia che avesse trovato vie morto e si fosse avvantaggiato del fatto non avrebbe avuto proprio niente da fare perché filmare il lavoro scritto o addirittura asserire che qualcun altro l'aveva fatto poteva impadronirsene semplicemente chi altri ne conosceva l'esistenza nessuno in pratica non c'era motivo di pensare che vie avesse parlato di quello scritto con altri vie era un tipo riservato e segreto per natura no proprio non c'era motivo di pensare che ne avesse parlato con qualcuno nessuno sapeva che vie avrebbe fatto una comunicazione salvo il dottor mandel non era stata annunciata non era stata pubblicata negli estratti il dottor mandel poteva prendere quello scritto e portarselo via sicurissimo di farla franca ammettiamo perfino che fosse al corrente del fatto che vie aveva parlato con i compagni di corso e con ciò quale prova avrebbero avuto quei compagni salvo la parola di uno che loro stessi propendevano a ritenere matto con l'annunciare invece che il lavoro di vie era stato distrutto col dichiarare che la morte poteva non essere avvenuta per cause naturali col frugare la stanza alla ricerca della copia filmata in breve col fare tutto quello che ha fatto il dottor mandel ha suscitato sospetti che lui solo poteva suscitare quando non avrebbe dovuto fare altro che starsene tranquillo dopo aver compiuto il delitto perfetto se fosse lui il criminale sarebbe più stupido più colossalmente ottuso di qualsiasi altro che io conosca è il dottor mandel alla fin fine non è proprio niente di tutto questo tagliaferro aveva un bel arrovellarsi non aveva proprio niente da replicare ma allora chi è stato domandò riger uno di voi tre è evidente ma quale o anche questo è evidente ho capito chi di voi era colpevole nell'attimo stesso in cui il dottor mandel ha completato la sua descrizione degli eventi tagliaferro fissava disgustato il grasso extraterrologo quel blef non lo spaventava ma stava avendo il suo effetto sugli altri due riger sporgeva in fuori le labbra caunas lasciava penzolare la mascella inferiore con aria ebete sembravano pesci tutti e due chi è allora domandò ce lo dica urt batte le palpebre prima di tutto sarà bene mettere in chiaro che la cosa più importante in tutto questo è il trasferimento della massa è ancora possibile recuperarlo mendel ancora ciliato domandò in tono querulo ma che diavolo va dicendo urt l'uomo che ha filmato quei fogli ha guardato probabilmente quello che stava filmando dubito che abbia avuto il tempo o la presenza di spirito di leggerli e quando anche non credo che potrebbe ricordarsene a livello cosciente tuttavia c'è la sonda psichica anche se lui ha dato un'occhiata soltanto quello che ha urtato contro la sua retina può sempre essere sondato tra gli altri serpeggiò un fremito di disagio non c'è da avere paura della sonda maneggiata come si deve non fa alcun danno specie se la persona si offre volontariamente quando danno c'è si verifica di solito a causa di un'inutile resistenza una sorta di lacerazione mentale evitabilissima perciò se il colpevole vorrà confessare spontaneamente mettersi nelle mie mani e tagliaferro rise quel suono improvviso risonò bruscamente nella quiete della stanza la psicologia del grasso urt era così trasparente così priva di artificio wendell urt parve molto sorpreso da quella reazione e fissò serio serio tagliaferro al di sopra degli occhiali sono abbastanza di casa alla polizia perché la sonda venga usata senza che la cosa si risappia riger ebbe uno scatto inferocito io non ho fatto niente caunas scuoteva la testa tagliaferro non si degnò nemmeno di rispondere urt sospirò allora dovrò indicare a tutti il colpevole sarà una cosa traumatica che renderà tutto più difficile serrò più volte le dita intrecciate sull'addome il dottor tagliaferro faceva notare poco fa che il film era stato nascosto sul davanzale esterno della finestra affinché fosse al sicuro e nessuno potesse trovarlo sono d'accordo con lui grazie disse seccamente tagliaferro tuttavia perché qualcuno dovrebbe pensare a un davanzale esterno come a un nascondiglio particolarmente sicuro lì la polizia avrebbe guardato di certo e il film è stato trovato infatti perfino in assenza della polizia chi mai può considerare particolarmente sicuro un punto all'esterno di un edificio qualcuno evidentemente che abbia vissuto a lungo su un mondo senza aria qualcuno abituato a pensare che da un luogo chiuso nessuno esce senza prendere infinite precauzioni a una persona che viva sulla luna per esempio una cosa nascosta all'esterno di una cupola lunare parrebbe al sicuro là gli uomini si avventurano fuori raramente e soltanto per motivi specifici così per amore di un nascondiglio indovinato la persona supererebbe la difficoltà di aprire la finestra ed esporsi a quello che nel suo subcosciente si associa al vuoto il pensiero che all'esterno di una struttura abitata un oggetto è al sicuro lo spingerebbe ad agire tagliaferro parlò a denti stretti perché parla proprio della luna dottor urt un esempio come un altro rispose tranquillamente urt quanto ho detto finora vale per tutti e tre ma adesso veniamo al punto cruciale la questione della conclusione errata riguardante la notte allude alla notte in cui è morto vie domandò tagliaferro alludo alla notte in generale seguitemi bene anche ammesso che un davanzale esterno fosse un nascondiglio sicuro chi di voi sarebbe tanto pazzo da considerarlo sicuro per un pezzo di pellicola ancora da sviluppare la pellicola di un film copiatore non è molto sensibile siamo d'accordo è fatta per essere sviluppata in condizioni un po di fortuna diremo così un'illuminazione notturna diffusa non le arrecherebbe molto danno ma la luce diffusa del giorno la rovinerebbe nel giro di pochi minuti e i raggi del sole diretti in pieno la rovinerebbero immediatamente lo sanno tutti questo continua urt disse mandel dove vuoi arrivare ecco che cerchi di farmi fretta protestò urt mentre io voglio che tutto sia ben chiaro il criminale intendeva soprattutto mettere il film al sicuro era l'unica registrazione di una cosa di supremo valore per lui e per il mondo intero perché l'avrebbe messo dove il sole del mattino l'avrebbe inevitabilmente danneggiato soltanto perché non si aspettava affatto che il sole sorgesse pensava che la notte fosse per così dire immortale ma le notti non sono immortali sulla terra muoiono e lasciano il posto al giorno perfino la notte polare che dura sei mesi alla fine muore le notti su cerere durano appena due ore le notti sulla luna durano due settimane ma sono sempre notti morenti e i dottori tagliaferro e riger sanno che prima o poi viene il giorno caunas era in piedi aspetti wendel urt lo fissò bene in faccia non c'è più alcun motivo di aspettare dottor caunas mercurio è l'unico corpo celeste del sistema solare che presenti soltanto una faccia al sole perfino tenuto conto della liberazione ben tre ottavi della superficie sono al buio e non vedono mai la luce l'osservatorio polare è all'orlo di quel lato in ombra per dieci anni lei si è abituato al fatto che le notti sono eterne che una superficie buia rimane eternamente nelle tenebre e così ha dato un film da sviluppare alla notte terrestre dimenticando nell'agitazione che la notte deve finire caunas mosse un passo incespicando aspetti urt fu inesorabile mi dicono che quando mandel ha regolato il polarizzatore nella camera di vie lei nel vedere il sole ha mandato un urlo era la sua ormai insita paura del sole mercuriano oppure l'essersi improvvisamente reso conto di ciò che il sole significava per i suoi piani si è precipitato verso la finestra era per regolare il polarizzatore o per guardare il film rovinato caunas era caduto in ginocchio io non volevo intendevo soltanto parlare con lui soltanto parlargli ma lui ha mandato un grido e si è accasciato ho pensato che fosse morto sapevo che quel lavoro stava sotto il cuscino il resto è venuto da sé una cosa tirava l'altra e senza che me ne rendessi conto mi ero messo in una situazione senza via d'uscita ma non era mia intenzione lo giuro avevano formato un semicerchio intorno a lui e wendel urt fissava con occhi impietosi caunas che gemeva un'ambulanza era venuta ed era ripartita alla fine tagliaferro aveva trovato il coraggio di rivolgersi rigidamente a mandel spero signore che nessuno serberà rancore per le cose che sono state dette qui dentro e mandel altrettanto rigidamente aveva risposto penso faremmo bene a dimenticare per quanto è possibile tutto ciò che è accaduto durante le ultime 24 ore ora erano fermi sulla soglia sul punto di andarsene e wendel urt piegò la testa da un lato sorridendo e disse c'è la questione del mio onorario badate mendel lo guardò preoccupato non parlo di denaro precisò subito urt ma quando verrà organizzato il primo trasferimento di massa per umani voglio che mi sia riservato un viaggio mandel continuava ad avere l'aria preoccupata un momento urt i viaggi nello spazio sono una cosa ancora di là da venire urt scosse rapidamente la testa non parlo dello spazio per carità mi accontenterei di un viaggetto fino a lower falls nel new hamshire ah d'accordo ma perché urt guardò in su con grande sorpresa di tagliaferro sulla faccia dell'extraterologo c'era un'espressione mista di timidezza e di desiderio un tempo disse urt tanto tempo fa veramente ci conoscevo una ragazza laggiù sono passati tanti anni ma a volte mi domando chissà